Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Acenios. Con questo video andiamo a scoprire insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda dal 6 al 9 luglio. Queste puntate saranno emozionanti e ricche di colpi di scena, quindi rimanete fino alla fine. Ilmaz accusa Mulga di aver tentato di uccidere Zuleia, gettando una pesante ombra sulla loro relazione. Nonostante ciò, Ilmaz e Zuleia insieme al loro figlio si ritrovano per la prima volta come famiglia e iniziano a pianificare una fuga. Nel frattempo, Unkar non riesce a perdonare Demir per il suo tradimento e decide di cacciarlo dalla villa armata di un fucile. Nel cuore dell'ospedale, Gulten si avvicina a Zuleia, chiedendole se abbia intenzione di rivelare a Demir che Mulga ha cercato di attentare alla sua vita. Tuttavia, Zuleia sorprende tutti, ammettendo di avere in mente un piano completamente diverso. Poco dopo, Zuleia fa ritorno alla villa e una gioia palpabile si diffonde fra tutti gli abitanti. I bambini corrono ad abbracciare la loro madre, creando un momento di grande connozione. Tuttavia, Unkar, ancora furiosa con Demir, lo affronta senza esitazione, non perdonando il suo tradimento con Sevda e non tollerando più la sua presenza. Proprio in quel momento, Cetin giunge alla villa per comunicare a Dunkar e a Demir che Atip è stato trovato morto nel bosco. La notizia getta tutti nello sconcerto, poiché si sospetta che gli stessi uomini che hanno attentato la vita di Fekeli siano responsabili di questo tragico evento. Nessuno immagina che dietro a questo omicidio si cela Gafur. Dopo aver finalmente tenuto Adnan tra le braccia e scoperto che è suo figlio, Ilmaz non vede l'ora di riabbracciare e baciare il suo prezioso bambino, nonché di scoprire le intenzioni di Zuleia. Riguardo al loro destino Quando Ilmaz si rende conto che Demir e Unkar stanno lasciando la villa, decide di parlare con Gulten per organizzare un incontro con Zuleia. È finalmente giunto il momento per lui di recuperare il tempo perduto e di definire il loro futuro. Poco dopo, Zuleia, Ilmaz e Adnan si ritrovano finalmente come una famiglia nella loro piccola villa. Ilmaz è estremamente affettuoso con suo figlio, coprendolo di baci e dichiarando che non si stancherà mai di stare con loro. Entrambi emozionati, si scambiano sincere scuse e in un momento di intimità Zuleia rivela che il vero nome di Adnan è Ilmaz e lo chiama così quando sono soli, confidandolo solo a lui. Ilmaz manifesta la sua incapacità di comprendere come abbia potuto mettere in pericolo la sua stessa vita in ospedale. Zuleia ammette che era certa che lui l'avrebbe salvata, poiché ha sempre avuto fiducia in lui. Poco dopo, Ilmaz le chiede quale sarà il loro prossimo passo, poiché non desidera allontanarsi nemmeno per un istante da loro. Tuttavia, Zuleia rivela di avere un piano per scappare insieme, ma questa volta non possono permettersi di sbagliare. Entrambi sono ufficialmente sposati, ma le circostanze attuali non consentono loro di chiedere il divorzio. Se lo facessero, Demir e Musgan, causa delle loro ossessioni, potrebbero rapire i bambini. Dobbiamo avere pazienza perché un solo errore potrebbe rovinare tutto, afferma Zuleia con determinazione. Successivamente, Demir fa ritorno alla villa dopo un incontro con Fecheli e gli uomini d'affari, più influenti della zona, ma si trova di fronte alla peggiore delle sorprese. Unkar ha dato ordine ai suoi uomini di non permettere a Demir di entrare, dando luogo a un momento estremamente teso tra madre e figlio. Carica di risentimento e minacce, la matriarca si sente profondamente tradita dal proprio figlio, poiché ha mantenuto i contatti con Sevda, l'amante di Adnan. Nonostante abbia sempre sacrificato tutto per lui, Unkar non ha intenzione di perdonarlo per il suo tradimento. Quando Demir arriva alla villa, si trova di fronte a uomini armati che gli bloccano il passaggio. Demir, senza comprendere a piedi la situazione, affronta gli uomini finché sua madre non interviene con un fucile in mano. Stanno solo seguendo le mie istruzioni, ho chiesto loro di non permettere l'accesso a persone indesiderate come te, dichiara con fermezza. Demir fatica a credere che sua madre possa cacciarlo così facilmente da casa. In quel momento, Unkar fa sapere a Demir con amarezza, ho passato un inferno, mi hai denigrata e umiliata. Demir cerca di farle capire che voleva solamente rispettare la volontà del padre. Ma Unkar è irremovibile. Non desidero più vederti, non chiamarmi più mamma. Per quanto tuo padre ti abbia chiesto di prenderti cura di quella donna, tu mi dovevi lealtà. Demir non ha altra scelta, se non quella di seguire gli ordini di sua madre e andarsene. Si trova ora ad affrontare la difficile realtà di essere separato dai suoi figli e da Zuleia, senza sapere quale sarà il proprio futuro. Dall'altra parte, Mojgan è estremamente ansiosa. La notizia che Zuleia è tornata in villa la preoccupa molto, temendo che possa rivelare da un momento all'altro di averle sparato. Nonostante le parole rassicuranti di Beice, che chiede alla nipote di calmarsi e suggerisce che Zuleia potrebbe non parlare, Mojgan continua a sentirsi insicura, timorosa che la polizia possa fare eruzione nella sua casa da un momento all'altro per arrestarla. Poco dopo, Yilmaz ritorna a casa del padre. Inizialmente voleva mantenere il silenzio su tutta la questione per il bene del piccolo Adnan, ma la sua rabbia prende il sopravvento e decide di affrontare sua moglie, non preoccupandosi degli altri presenti, Beice e Fecheli. Mojgan viene apertamente accusata da Yilmaz di aver tentato di uccidere Zuleia. Beice e Mojgan restano esterefatte, negando immediatamente qualsiasi coinvolgimento. Anche Fecheli si rifiuta di credere alle accuse, dichiarando in modo deciso Mojgan era a casa con suo figlio e io li ho visti. Mojgan mantiene la calma e affronta Yilmaz dicendo non osare diffamarmi, dimmi che vuoi separarti da me e che non mi ami più. Fecheli si avvicina di Yilmaz e cerca di capire cosa gli è appena accaduto. Hai accusato Mojgan senza prove, io ho a casa e ho visto Mojgan con Kerem, afferma cercando di far luce sulla situazione. Mojgan si difende affermando che Zuleia sta mentendo e che non gli ha mai sparato, mentre Fecheli e Beice si schierano dalla parte di Mojgan. La tensione all'interno della casa è palpabile e l'incertezza sulle accuse e sulle verità nascoste crea un clima carico di conflitti e difficili decisioni da affrontare. Le anticipazioni di queste puntate terminano qui. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!